weh non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONEE. DAIEEEE bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi quanti aggiornamenti nascosti nella patch senza downtime che abbiamo scaricato ieri l'aggiornamento della 10.0 che ovviamente in game ha visto arrivare la nuova Tilted Town con tutto quello che è connesso e annesso ma che soprattutto ha visto l'inserimento di moltissime cose non ancora pubblicate che voglio farvi vedere. Nel video di oggi parleremo però subito così di un glitch per Tilted. Signori c'è il modo di costruire a pinnacoli lo fixeranno probabilmente tra poco quindi potete provarlo e magari riuscire a portarvi un pochettino più in vantaggio non dovreste essere riportati perché è un glitch in game parleremo anche però del rift nel cielo oramai è palese che ci stiamo riportando a quanto avevamo già visto nella season 4 quindi rift nel cielo che probabilmente avrà un ruolo fondamentale in questa season e tra l'altro uova di drago come vi dicevo gli aggiornamenti sono stati tantissimi e queste uova di drago che non si capiva che fine avessero fatto adesso è chiarissimo quale sia il loro scopo. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi quando lo usate per sciopazzare di prepotenza nello shop mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Prima la domandina raga dai ve la devo ve la devo fare ieri mi avete inondato di commenti quando vi ho detto il vostro oggetto più raro il mio in realtà forse era lo spray lo spray dell'ama quello galaxy domandina di oggi è ovvio che vi chiedo come ti sembra il nuovo cecchino tra le altre cose che hanno aggiunto ufficialmente nella patch 10.0 aggiornata c'è il nuovo fucile da cecchino automatico figo bella l'idea che c'è un fucile a cecchino che spara a ripetizione fa un po poco danno ma è normale nel complesso io voto un pollice positivo non non mi dispiace non mi dispiace voglio sapere invece cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle cianci e andiamo subito subito ragazzi a vedere che una delle cose inserite confermate queste location come che ritorneranno in questa season moisty mire anarchy acres risk and really greasy grove che sarebbero in poche parole putrido pantano acri anarchici rapide rischiose e boschetto bisunto e molto probabilmente anche tomato town e la fabbrica il laboratorio della latrina come si fa a scoprirlo perché ragazzi ci saranno delle challenge le stiamo vedendo in questo momento qua siamo direttamente nei file di gioco non si è ancora capito ovviamente quali siano le challenge ma sembrerebbe che ci sia di mezzo un particolare spray ed effettivamente se già in questi giorni girate per la mappa avete notato che ci sono degli spray un pochettino ovunque e non ha molto senso ce ne sono veramente tantissimi probabilmente saranno la chiave delle challenge che riporteranno appunto queste vecchie location per chi non se le ricorda o per caso non le ha mai viste questo è boschetto bisunto quello che in poche parole sta sotto il lago ghiacciato rapide rischiose che adesso è sostituita da scalini scatenati abbiamo bellissimo putrido pantano grandi ricordi di season oramai passate che rimane rimaneva dove c'è l'angolo in basso a destra della mappa dove c'è ovviamente il bioma del deserto e la fabbrica nel laboratorio della latrina che è stato sostituito più o meno da borgo allegro diciamo che siamo più o meno lì quindi ragazzi challenge che arriveranno e che piano piano durante la season riporteranno queste location ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ed eccola qua la nostra meravigliosa tilted town sparita ieri con l'update così dal nulla la nostra neopinnacoli sono contento in realtà che se ne sia andato non l'ho mai apprezzata così tantissimo boh easy cioè nel senso niente di la vecchia pinnacoli wow questa pinnacoli sinceramente non mi ha mai preso come la precedente arriva invece adesso la nuova tilted town qual è la particolarità non si può farmare non si può buildare ci sono dentro delle armi che sono sponabili solamente a tilted io intanto amo questa modalità che hanno inserito nel battle royale quindi gg che esiste una location dove si gioca in poche parole alla call of duty ecco se volessimo fare un paragone gg che hanno deciso di fare degli spawn di armi fuori magazzino e ritirate fuori dal magazzino in determinati punti spero che non mollino questa cosa perché è un'idea geniale è un'idea geniale che secondo me rinfresca il gioco in una maniera incredibile qual è il glitch ve lo voglio fare vedere cerchiamo di commentarlo insieme ragazzi siamo sul bordo di tilted town e guardate questo tizio praticamente vedete qua alla nostra line la ci sono la fine dei cavi elettrici no quindi capite benissimo dove siamo lui è riuscito se voi fate le piattaforme i pavimenti riuscite ad andare fino a dopo il muro perché c'è proprio il bordo che taglia e fa la curva una volta che avete fatto il pavimento andate a modificare l'ultimo angolino del pavimento senza però vedete modificando il l'angolino guardate bene il personaggio è già dalla parte di qua e non è ancora stato trasformato quindi lui modifica easy ti fa vedere che è dalla parte di qua perché è già ha già oltrepassato il confine scende e come vedete ci sono delle costruzioni e lui può costruirle guardate ve lo fa rivedere ora poi lui lo rimette dritto appena l'ha rimesso dritto ed è passato oltre vedete che si è trasformato ripassa di qua e torna ad essere normale allora lui modifica l'angolino prima di ripassare il confine e come vedete può tranquillamente buildare dentro tilted town ragazzi non è bannabile perché è un glitch quindi easy non abbiate paura provatelo comunque a vostro rischio e pericolo mi raccomando un occhio di attenzione a quello che fate e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento che è il rift nel cielo interessantissimo vedere questa immagine che non è altro che una foto scattata del rift 48 ore fa quindi prima che arrivasse tilted town mentre se andiamo a vederlo già da adesso anche in queste ore il rift è notevolmente ingrandito già avevamo visto qualcosa del genere per chi non se lo ricorda voglio mandarvi una clip che non riesco a trovare vediamo ok non ho la clip purtroppo disponibile in questo momento ma il rift si era già visto ovviamente nella season 4 la season del visitor dove parti il rocket che poi nel cielo lasciò questo squarcio enorme che portò kevin poi che andò avanti nella season 5 e nella season 6 questo rift ragazzi è molto probabilmente associato a ciò di cui avevamo parlato a inizio del video quindi a tutte le siti che piano piano torneranno e riporteranno la mappa un po come era mi piace tantissimo le idee che hanno avuto in questa season lo rivediamo ancora qua in una foto ad alta definizione e una curiosità che vi voglio fare vedere è proprio comparare questo rift ragazzi con quello della season 4 quello sopra di me è adesso e quello là in fondo invece era quello che ci fu nella season 4 lasciate perdere la scia luminosa che non c'entra niente perché erano degli squarci potremmo vederne ancora nel cielo non si sa ragazzi ma tanta tanta roba velocemente vi faccio vedere l'ultima cosa che è di nuovo challenge per potenziare il vostro drago e secondo me è sbagliato questo lix perché non sarà il drago quello di ghiaccio ma probabilmente potrebbe essere il drago che ci viene dato nel pass battaglia verso la fine se non ricordo male che non è assolutamente associato al drago ghiacciato trovando delle uova di drago stiamo vedendo tutti i codici sorgenti trovando le uova potrete potenziare il vostro drago ed è anche per questo che ovviamente è stato di nuovo reinserito questo nei file di gioco quindi un'immagine di nuovo delle uova insomma ragazzi le novità continuano ad arrivare questa season è ben sopra le mie aspettative mi piace tantissimo io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao